Una piattaforma di matching B2B sempre più profilata, un'area dedicata al lusso che accoglie il bello e ben fatto, tipicamente italiano, e nuovi spazi pronti a ospitare le aziende del mondo del refitting e brokerage. Sono queste alcune novità della quarta edizione di Versilia Yachting Rendezvous, l'appuntamento di Fiera Milano dedicata alla nautica d'eccellenza in programma dal 28 al 31 maggio 2020 a Via Reggio. L'evento si svolgerà per la prima volta alla fine di maggio all'interno della d'Arsena, un momento dell'anno ritenuto favorevole dagli operatori di settore e in una d'Arsena più strutturata per accogliere imbarcazioni di grandi dimensioni. La nuova area a galleri, un'accogliente e tenso struttura all'ingresso della manifestazione, ospiterà le Maisons del Lusso, dell'artigianato e gli interior designer. Spazio in acqua dedicato al brokerage e ai charter dove i migliori professionisti del settore assisteranno i visitatori durante il processo di acquisto o di vendita di un'imbarcazione. La banchina ospiterà tutte le aziende specializzate in servizi dedicati ai futuri armatori, finanziamenti e leasing, perizie commerciali e tecniche, pratiche nautiche, consulenza assicurativa e restyling imbarcazioni. Non mancheranno i Tender & Toys, accessori per il divertimento e navigazione, la componentistica e i motori.